Oro giallo parro, Dacotazzo, Oro nero spinne, Niklas A.S. In terza fila, Nemo d'Alfa, Mister Tivoli e Nasdaq del Cigno. Mister Tivoli parte arretrato. Il più veloce è Osiridea R alla chiusura delle ali. Anzi, sì, è Osiridea F. Ai suoi fianchi si presenta subito Olyphante Jet. Parte bene anche Oro nero spinne che punta in avanti. Quindici duecento iniziali, passaggio davanti alle tribune, Olyphante. Il galoppo di Oro nero rimane a largo Ledar. Ledar cerca di andare su Olyphante che si oppone. Trenta e mezzo il quarto iniziale. Allargo nelle prime posizioni anche Odako Tazzo che è seguito da Niklas A.S. Si arriva così al completamento dei seicento, 46 e mezzo. Ancora le prese Olyphante e Ledar. Ora Olyphante Jet riduce drasticamente il ritmo. E si avvicina sia Odako Tazzo che Niklas A.S. Niklas punta in avanti. Insofferente in terza pariglia. Salvatore punta in avanti. Adesso raggiunge, o cerca di farlo, Olyphante Jet. Poi ha problemi di andatura. Galoppa. Chilometro completato in 1.18.1. a tabellone Niklas A.S. Adesso è la volta di Giorginio a largo di tutti con Obelix di Celle. Che va dritto, raggiunge sia Olyphante che Ledar. Ad un giro dalla conclusione. Ultima frazione in 16.5. Obelix scavalca Ledar. Arriva ai fianchi di Olyphante. Gli mette pressione. Obelix è incisivo. Risponde Olyphante per il momento. Olyphante e Obelix alle prese. Stentano gli altri. Una mossa in terza ruota di Odette Griff. Olyphante si è scrollato di dosso. Obelix di Celle. Prende vantaggio. 2.5 il miglio. In terza posizione Odette Griff. Si fa notare anche Mr. Tivoli. Retta d'arrivo. Olyphante. In versione super. Nelle mani di Agnello Vitagliano. Va a concludere nettamente. Nei confronti di Obelix di Celle. Mentre per la terza moneta. E ancora Odette Griff. A respingere Mr. Tivoli. Probabile media di 1.17.2 sul doppio chilometro. Al comando si è espresso al meglio. Il buon Olyphante Jet. Figlio di Pineship. I colori della scuderia Nevi. E il training di Andrea. 5-8-7. Questo è l'arrivo ufficioso della quinta corsa di Aversa. Seconda tris del giorno. Vince in maniera netta. Olyphante Jet. Come preventivato. Preciso percorso di testa. Ha potuto risparmiare lungo il percorso. Per poi andare via lungo il mezzo giro finale. Svincolarsi da un ottimo Obelix di Celle. Ci aveva segnalato Bello nelle sgambature. Emilio Migliaccio. Terzo posto per un altro soggetto che avevano segnalato. Odette Griff. La numero 7 dello schieramento. Guidata Antonio Di Nardo. Per i numeri 5-8-7. Questo è l'arrivo ufficioso della quinta corsa di Aversa. Ripeto, abbinata alla scommessa seconda tris.